Bene, eccoci di nuovo dai laboratori di Sound Machine per presentare un upgrade del sistema Hi-Fi della nuova BMW Serie 3 2013, come sempre sono Valentino per questa breve presentazione. La macchina è bellissima, il sistema originale prevede ovviamente tutto quello che può servire come intrattenimento e sistemi di navigazione, abbiamo appunto tutto quello che può servire se non che al cliente in questione mancava un po' di qualità aggiunta rispetto all'impianto di serie. Come al solito qui abbiamo mantenuto tutto molto sobrio, non si vede nulla di quello che abbiamo effettuato dal punto di vista dell'intervento, abbiamo installato un amp DSP Match, il PP52, che i nostri affeccionados conoscono benissimo, abbiamo aggiunto un tweeter sul triangolino dello specchietto retrovisore che su questo allestimento non era compreso e abbiamo gestito in multiamplificazione questo sistema dando una nuova interpretazione acustica e l'impianto si esprime in modo decisamente più piacevole sia sotto l'aspetto timbrico che sotto l'aspetto della pressione sonora aggiunta. Bene, come al solito da Valentino, alla prossima, se avete bisogno per la vostra BMW sapete con chi relazionarvi. Ciao!